Maria Laura sta cedendo, ha appoggiato entrambe le braccia, quindi scende e si ritira dalla prova Alessandro, Carmen e Stefania, con la posizione di Carmen veramente, veramente eccezionale Alessandro si ritira, Carmen sembra finita sul palo, ha trovato la sua posizione più confortevole Ammirevole, brava Carmen, e Stefania resiste scivolando leggermente All'età di Carmen questa forza e questo fisico, ci metteremo tutti la firma, guarda Veramente ammirevole, complimenti Carmen per la tua posizione sicura E Stefania ride, anche lei ben posizionata Sta lentamente scivolando, le cosce per... Ha messo il braccio, Stefania ha messo l'altro braccio, quindi la vincitrice Carmen è la leader di questa puntata, complimenti Carmen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti